Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIODER e ragazzi quante novità anche oggi riguardante il nostro Fortnite! Ci sono degli aggiornamenti incredibili sia sul fronte dei nuovi tornei che proprio Epic Games ha reso ufficiali forse per sbaglio o forse no ma anche grandi notizie per quanto riguarda alcune nuove modalità che stanno per arrivare e che ci prepareranno alla stagione numero 10! Nel video di oggi ragazzi innanzitutto informazione incredibile Fortnite viene bannato in un altro paese e davvero la cosa si sta cominciando a fare molto preoccupante vi faccio vedere delle cose e ne parliamo due secondi ma quello di cui vi anticipavo a inizio del video è il mega torneo per giocatori da console sembrerebbe solo per Xbox ma non è ancora confermato un monte premi? Assurdo direttamente spoilerato tra virgolette The Epic Games e ovviamente un bel po' di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di Fortnite! Prima però ragazzi volevo ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xyuderone grazie di cuore ragazzi per supportarmi quando ci sono pazzate di prepotenza nello shop mi raccomando però iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima c'è la domandina e la domandina di oggi è davvero molto molto interessante raga mi raccomando come fate sempre tutti i giorni i vostri commenti qua sotto io me li leggo e ci tengo tantissimo domanda molto interessante cosa non vorresti nella stagione 10 una cosa che proprio non vorresti ci fosse nella season 10 un'arma che non vuoi un veicolo che non vuoi una città che non vuoi quello che ti viene in mente io non voglio i Fortbyte raga io non voglio più niente che si debba fare ogni giorno vi prego Epic Games lasciatemi riposare perché comunque ogni giorno devi essere lì alle 3 a fare su il video del Fortbyte per dare le informazioni io spero che nella season 10 non ci siano queste cose e che possiamo tranquillamente goderci anche le nostre giornate mi raccomando i vostri commenti qua sotto ma quindi ciancio le bande e bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a parlare del primo argomento che è nient'altro che il nuovo Fortbyte quello di ieri il numero 28 il più difficile sicuramente tra tutti quelli che abbiamo recuperato perché c'è sempre un fottio di gente sicuramente l'avete preso chi non lo avesse ancora preso lo vede qua nella mappa è praticamente dietro alla discarica nel deserto vedete lì c'è palmetto paradisiaco sotto verso il mare ci sono quelle 4 5 cose che fanno la discarica c'è il minigioco che state vedendo anche nello sfondo in questo momento seguite la sequenza per 4 volte consecutive e sicuramente riuscirete ad ottenere il vostro Fortbyte ma andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi ed è incredibile ve lo ricordate il nuovo bundle per utenti che vogliono acquistare una PS4 disponibile in realtà anche per l'acquisto solo di un controller oppure per l'acquisto solo di un paio di cuffie il bundle Neo Versa da oggi anzi da ieri in realtà è già disponibile per il preordine io l'ho fatto ragazzi io me ne sono sbattuto mi sono fatto il preordine dovete andare se ce ne sono ancora nel sito cdcase.com sito affidabilissimo vendeva anche ai tempi il codice per la skin double elix quindi costa 40 euro per noi invece che 69 euro però in questi 40 euro c'è il golden pack praticamente i pacchi di Neo Versa sono due ce n'è uno che ti dà la skin il piccone se non ricordo male forse anche il deltaplano ma non non ci metterei la mano sul fuoco e 500 v bucks questo da 40 euro invece 2000 v bucks quindi alla fine ragazzi una skin esclusiva a me va bene per l'armadietto ma 2000 v bucks praticamente la stiamo pagando metà del prezzo cdcase.com potete trovarlo sicuramente fortnite Neo Versa più 2000 v bucks andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi che è fortnite bannato in un altro paese del mondo forse non ve lo ricordate ma ci sono già due paesi in cui fortnite è bannato il primo è la Cina e il secondo è l'Iran se non ricordo male è l'Iraq scusate non l'Iran quindi non si può giocare a fortnite in questi paesi per noi è scontato giocarci ma immaginate anche magari gente che ha speso dei soldi che da un giorno all'altro non può più accedere per sempre al gioco incredibile ragazzi questo viene tutto ovviamente da parte di chi c'è dietro dei governi che comunque ritengono che fortnite sia un gioco pericolo che incita alla violenza io completamente io divento violento quando gioco a fortnite ma il gioco in sé non è assolutamente un invito alla violenza o all'odio anche perché non c'è spargimento di sangue nuovo paese dove fortnite viene bannato è la Giordania ragazzi quindi arrivano a tre gli stati dove purtroppo i ragazzi e mi dispiace davvero per loro non possono giocare a fortnite e andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi quello più balsugoso che è tanto che non lo dicevo nei video ragazzi quello relativo al megatorneazzo di xbox è una collaborazione ufficiale ovviamente microsoft con fortnite monte premi un milione di dollari ragazzi una cosa incredibile che verrà ovviamente separato in tutti i partecipanti tutti i qualificati abbiamo delle immagini anzitutto abbiamo un tweet ufficiale che diceva sembrerebbe che ep games stia facendo delle modifiche e abbia deciso di creare appunto un torneo esclusivo per i giocatori di console però poi non si è ancora capito bene se in realtà sia solo per xbox oppure ne verrà fatto uno anche per i giocatori di ps4 o addirittura solo i giocatori da console abbiamo però un'immagine ufficiale perché questa ragazzi è una schermata presa direttamente dall'xbox store e come vedete fortnite xbox cap un milione di dollari per il premio complessivo non si sanno ancora tante altre cose solamente queste immagini ragazzi anche perché guardando in giro su internet non abbiamo assolutamente notizie ufficiali da parte di ep games perché questa probabilmente è apparsa per errore sullo store di xbox potrete controllare per chi ha la console io non ce l'ho quindi non ho modo di verificare di persona ma stiamo pronti a sapere tutto quello che c'è da sapere ufficialmente ovviamente nei prossimi giorni e chiudiamo ragazzi con l'ultimo argomento di oggi un argomento molto curioso e interessante una nuova modalità che viene inserita nella patch probabilmente 9.40 è una nuova modalità per gli streamer quindi si chiamerà anonymous mode in poche parole modificherà in game la tua skin cioè tu stai giocando decido di selezionare il cuddle team leader l'orsacchiotto io in game vedrò che ho l'orsacchiotto ma se utilizzo la modalità anonymous gli altri giocatori in game vedranno una skin di default ed è sinceramente ragazzi una cosa meravigliosa non so a quanto possa abbattere il problema degli stream sniper ovviamente questa nuova modalità è stata fatta principalmente per cercare di combattere questo fenomeno che purtroppo è super diffuso tra gli streamer e staremo ovviamente a vedere se avrà davvero un senso oppure no io aggiungerei sinceramente qualcosa relativo non lo so come dire alla minimappa nel senso metto una modalità in game dove io sono in un punto ma in realtà nella mia minimappa per dire si vede un altro punto ora non so come farlo a spiegare bene ma sicuramente troveranno modi più all'avanguardia per combattere questo fenomeno io ragazzi vi ringrazio tantissimo per avere guardato il video news mi raccomando non dimenticate un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live alle 8 ciao ciao Grazie a tutti.